La cornice di questa settimana, dicevamo in apertura, è Mel, perché Mel è protagonista della decima edizione di Mele a Mele e oggi Night in Day vuole scendere nei particolari di questa manifestazione, spiegarvi la sua nascita, lo sviluppo e questa decima edizione perché mentre alcuni di voi ci guardano all'inizio della settimana, altri ci stanno seguendo nell'ultima replica di Night in Day alle ore 15 di sabato, quando Mele a Mel è da poco cominciata. Il 10 e l'11 di ottobre infatti si svolge questa decima edizione, oggi ne parliamo nel dettaglio, andiamo a capire come è nata appunto Mele a Mel e lo facciamo insieme ad Alessandro Gallon che è il presidente dell'associazione Mele a Mel. Allora, dieci anni fa nasce questa iniziativa, perché? Questa iniziativa nasce dal desiderio di poter mettere a disposizione del pubblico, delle persone desiderose di gustare i prodotti della nostra terra delle mele e dei prodotti che normalmente non si trovano in mercato, perché vengono prodotti a livello familiare, rimangono nelle proprie case e non c'è la possibilità di accedere. Allora, insieme con la biodiversità, insieme con la ricerca di gusti tradizionali di una volta, è nata la passione, il desiderio di riscoprire questi prodotti che ognuno ha a casa sua, ma che nessuno mette in possibilità di vendita. Allora abbiamo detto facciamo una festa, superiamo la paura di mettere il prodotto fuori dalla porta, facciamo questa cosa in modo che tutti vogliano partecipare e fare un banco con due sedie e una tavola e esporre le proprie delizie, insomma, no? Ovvio che la mela era il prodotto più adatto a simboleggiare, a dare poi il nome della manifestazione. Sì, la mela in quanto prodotto locale tradizionalmente importante per la famiglia naturalmente e mela perché, insomma, ha delle caratteristiche veramente valide, veramente buone, che rappresentano un po' l'autunno e tutto il mondo agricolo nostrano, insomma. Questi dieci anni come sono stati? È stato un crescendo perché ormai Mela Mela è veramente una manifestazione consolidata e radicata nel territorio e che parla strettamente del territorio. Sì, la manifestazione è nata partendo dalla mela e dalla mostra delle mele che abbiamo alle nostre spalle che ripetiamo da ormai dieci anni e che raccoglie appunto questi prodotti, questi frutti che in certi casi sono residui di anni di gloria che sono rimasti come dei monumenti che è un peccato perdere, quindi c'è questa ricerca, questa riscoperta. La manifestazione è cresciuta nel frattempo grazie all'intervento della Proloco. Noi siamo rimasti a gestire il nostro spirito di proporre un prodotto. La Proloco ci ha aiutati a crescere e diventare quello che è adesso Mela Mel, cioè una manifestazione che ha un ampio respiro e che permette a moltissime persone anche fuori provincia di vedere quello che stiamo facendo e quello che faremo, insomma.